Allora, io ho un'edizione del Sergente della Neve ancora delle medie, di quando io ho fatto le medie, quindi è stato letto molto ai miei tempi. Forse, non so, ultimamente un po' meno, però ti dirò, quando io ho fatto uno spettacolo con lui e mi capitava spesso di fare degli incontri nelle scuole con lui presente, lui è mancato 12 anni fa, quindi diciamo che fino a 15 anni fa la cosa è abbastanza naturale e normale. Gli ultimi anni non so, non sono molto informato e mi dispiace perché sicuramente anche la sua scrittura è particolare, molto d'impatto e quindi direi che è quasi un classico in qualche maniera. Quindi se non fosse così spero che ritorni presto ad essere un libro di letture per ragazzi. Guarda, lui, insomma, se lo conoscevi all'inizio appunto essendo molto riservata, gli stavi molto lontano, nel senso che io, sai, è come i gatti, devono essere loro che vengono da te in qualche maniera. Io non volevo invadere la sua vita perché scrivere un spettacolo su di lui per me è stata una grossa responsabilità. Quindi è stata un'amicizia che è nata col tempo, finché proprio fu lui una volta a prendermi dopo una lettura, mi prese sotto braccio e andammo verso l'albergo a berci un bicchiere di vino. E io ero stupito di questa cosa. Mi portò a casa sua a vedere la cintura che aveva quando era rientrato dal campo di concentramento, che aveva un vitino così. Mi disse, guarda, che pesavo 42 kg. Cioè mi raccontò altre cose personali sue e tutto questo, insomma, lasciavo che venisse fuori in maniera naturale. Lui stesso ti diceva, guarda, il problema è che due persone si danno da lei, poi in maniera naturale avrà di darsi del tu, eventualmente. Quindi non ti preoccupare se vuoi darmi del tuo, da lei, fai come ti pare. E per cui a un certo punto abbiamo cominciato ad avere una certa confidenza. Io ti dico, è uno stile di vita molto antico, per certi versi. Abitava ad Asiago, non si è mai voluto spostare ad Asiago. Un po' tipico di alcuni scrittori veneti. Lo stesso Parise, ritornò, prese una casetta in provincia di Treviso, gli ultimi anni, dopo aver girato il mondo intero, ritornò in provincia di Treviso, a Salgareda. Zanzotto, un altro grandissimo, che una volta doveva ritirare un premio in Sicilia, a Roma, ha preso il treno e è tornato indietro, perché non le voleva sapere, è troppo lontano a casa sua. Forse è qualcosa dei miei veneti che abbiamo questo desiderio di ritornare sempre alle radici, no? E per me è un modello positivo. Ora i ragazzi, sai, hanno questa vita virtuale, quei social, eccetera, credono di essere in contatto con il mondo intero, poi in realtà sono ancora più chiusi. Quindi, francamente, io spero che qualcuno, ovviamente, prenda il modello, proprio come persone come Rigonister, insomma. Ma sai, il negazionismo ormai è su tutto, capito? Quindi quello che è accaduto fino a pochi anni fa, noi dicevamo che la guerra è finita con 70 anni fa, e vabbè, cioè non è tantissimo, capito? Quindi il negazionismo ormai si applica a qualsiasi cosa. L'importante è andare contro, l'importante è che, in qualche maniera, negare una certa verità. Il racconto che vado a leggere stasera, in realtà lui ci ha messo anni, ci ha impiegato anni prima di comprendere esattamente cosa poteva scrivere, tant'è che l'ha scritto addirittura in terza persona, come se fatto fosse accaduto un altro. Perché? Perché quando lui ritornò in Italia, come tutti quelli rientrati nel campo di concentramento, penso a Liliana Segre, erano isolati, non riuscivano a parlare di quello che gli era successo. Lui stesso faceva fatica, ha avuto problemi di depressione, insomma, anche perché non gli veniva riconosciuto quello che aveva vissuto. E quindi questo racconto l'ha scritto in terza persona, proprio per mantenere un distacco. E questo gli ha permesso di avere una certa lucidità nel racconto. E cosa vuoi, qui sono testimoni che purtroppo ora non ci sono più e credo che sia giusto che molte associazioni abbiano preso il loro testimone e lo possano proseguire, capito? Attraverso spettacoli, attraverso video, attraverso filmati, attraverso incontri, ma non per essere ossessivi. Insomma, c'è poco a fare, sulla dimenticanza del passato non costruisce nulla, insomma. Ma io guarda, le prime volte che era presente lui, cioè me la facevo sotto, perché era lì, abbiamo fatto una prima lettura in un bosco sopra Asiago. C'era tutto il pubblico all'interno del bosco, una giornata bellissima, e lui era seduto vicino a me, sotto un albero appoggiato lì, che ascoltava. Concentriamoci sulla lettura, perché la facevo a memoria allora. Perché stavo già preparando lo spettacolo, quindi era già a memoria, quindi concentrati, vai avanti, vai avanti. E addirittura una volta che facevo la lettura di fronte a lui, lui mi scrisse una dedica scritta in dialetto, scrivendo Lussi che esibò a lesere. Scritto, no? Era una persona, a suo modo, molto affettuosa, capito? Perché credeva nei rapporti veri. E questo l'ho riconosciuto subito. E quindi per me è stata una cosa bellissima. Io mi sono innamorato della sua scrittura, lui incrocia sempre natura e guerra, hanno sempre stati i suoi temi più importanti. Ha scritto tanti libri sugli animali, c'è un libro che si chiama Il libro degli animali. E quindi per me è stato un regalo, insomma. Ti racconto questo, lui dopo che avevo consegnato il testo a Linaudi e spedito a lui, mi chiama domenica mattina a casa, a Roma, squilla il telefono. Allora i cellulari si usavano molto meno. Chi è che mi chiama? No, è il mattino, dico, boh, vado a rispondere. E sento, buongiorno, sono riconosciuto. E c'è un amico caro, carissimo amico, caro Mazzacurati, che mi faceva continuamente degli scherzi. Ho detto, è lui. Sì, vabbè, faccio io. Sono riconosciuto. Sì, dai, muoia. Gli ha detto, smettila, dai. Sono riconosciuto. L'ha detto come un sergente, capito? E là ho capito che era lui sul serio. Ho cominciato a sudare freddo. E mi dica, sei proprio come fantozzi, no? E lì mi ha detto, ho letto il testo, mi sono riconosciuto. Ok, è un'andata. Mi ha fatto una piccola correzione, per cui era molto pignola su alcune cose. E dopodiché, ha avuto la sua approvazione, sono volato proprio, ero molto, cioè mi stavo sicuro, tranquillo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.